Anticipazioni e spoiler terra amara, nuovamente la soppopera si macchierà di un ennesimo lutto, una morte sconvolgente quella di Genjaver, ex diventato migliore amico di Demir Yaman, ma vediamo nei dettagli che cosa accadrà. Anticip, che sarà un nuovo personaggio che presto entrerà nella soppopera, stanco di ricevere le continue accuse da parte di Genjaver sui sulloschi piani contro gli uomini d'affari di Ciucciova, deciderà di fare un passo che non gli concederà anche un ritorno. Ovvero, creerà un piano dove l'unico suo scopo sarà quello di uccidere il povero Cengo, sotto gli occhi proprio della perfida Sherman, che nel frattempo si sarà alleata proprio con Anticip. Sherman ormai dopo il divorzio da Sebastian diventa sola, anche la famiglia Yaman l'ha abbandonata e quindi cercherà confronto proprio in questo Atip, un uomo losco e crudele. Con lui instaurerà anche una relazione d'amore. Cengo nel frattempo ha chiuso l'amicizia con Demir, estraerà un rapporto di fiducia e amicizia, indovinate con chi? Proprio con Ilmas. Eh sì, e infatti in queste immagini che stiamo vedendo stanno festeggiando la cresima del bambino, dove proprio Ilmas è il padrino del piccolo. Ma un giorno però, proprio in quel giorno, Cengo andrà via da questa festa per un attimo e andrà proprio da Atip per incolparlo dei suoi loschi affari contro tutti gli imprenditori di Ciucciova. Atip, in compagnia di Sherman, stufo delle congine accuse proprio da parte di Cengo, gli spaerà, vedete qua dalle immagini, e centrerà il suo addome. L'uomo cadrà a terra e Atip porterà via Sherman facendolo giurare che non dirà a nessuno tutto quello che è accaduto. Cengo, nonostante la ferita grave, riuscirà ad alzarsi. Andrà dalla famiglia e giungerà i familiari alla cerimonia che si sta avvolgendo proprio in onore del suo bambino. Arriverà con la bicicletta che aveva proprio comprato per il figlio. Purtroppo, una volta giunta in sala, per il troppo sforzo e il sangue che ha perso, Cengo cadrà a terra, quasi privo di sensi. A questa cerimonia rappresenta Mugen, moglie di Ilmas, e anche Sebastian, che faranno di tutto per cercare di aiutarlo. Ma non ci sarà nulla da fare. Cengo morirà, vedete qui, immerso intorno proprio ai suoi amici. Ilmas gli dirà chi è stato a farlo, ma Cengo non riuscirà a pronunciare il nome di Atip. Che cosa accadrà? Vi svelo un segreto, sarà proprio Demir Yaman accusato dell'omicidio del suo ex migliore amico. Questo e tanto altro nelle prossime puntate di Terra Amara.